c'era c'era un tale che tanti anni fa è morto già e questo era il famoso gino barton diceva qui è tutto da rifare che cosa sono i diritti umani ecco che cosa sono i diritti umani sono diritti che vanno rispettati da tutte le persone del mondo come ad esempio essere liberi e stare bene crescere tranquilli andare a scuola giocare anche essere liberi di dire quello che si pensa e anche uscire di casa senza che ci cadde una bomba in testa io direi la mia ma non so se faccio bene prima di avere dei diritti bisognerebbe essere umani